i seguitori provvedo di asdo a 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 tada tu zobacz tu zobacz jest zobacz idzie jakiś liczny rafanko rapunko rapunko napолнo naprós 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 Sì, 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 sì. no 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 solo pola così per il tempo che si sapansello tu pilotecnico tu mi ha detto che 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 ci sono super vediamo a te Grazie a tutti Wow 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 a questo è un bel carol questo è un bel Marek e questo è un bel Marek e questa è un Kasia